Pronti alla mobilitazione perché il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ancora non ha dato riscontro alla richiesta di una discussione sul futuro di Casa Divina Providenza. La prestigiosa struttura sanitaria e riabilitativa con sedi a Biceglie, Foggia e Potenza è ancora in amministrazione straordinaria in attesa che sia completata la procedura di vendita. ITER che le sigle sindacali vorrebbero fosse riaperto per consentire l'intervento di investitori solidi e nuovi rispetto al numero limitato di quelli che hanno preso parte alla procedura di acquisto. Se oggi io acquisto a 10, poi faccio l'accordo con la regione, quello che acquista da 10 varrà 100. Allora non capisco perché non si possa fare prima, se si fa dopo il rischio è che si stia svendendo e non vendendo al miglior acquirente nelle migliori condizioni. Perché l'accordo per rivalutare le prestazioni dal punto di vista economico e quindi dare dignità a quelle prestazioni, perché si parla da 3 anni, da 4 anni, da 5 anni che alcune prestazioni sono economicamente da rivalutarsi, così come si parla di riconversione dell'offerta sanitaria. Allora se io qui dentro in questo contenitore che oggi fa alcune cose e domani ne fa altre, quelle che farà domani valgono economicamente molto di più di quelle che fa oggi. Per cui se io oggi acquisto a queste condizioni, domani, rivedendolo, il rapporto economico con la regione varrà 100 volte quanto l'ho acquistata. Allora capiamo di che stiamo parlando e questo vogliamo trasparenza e chiarezza del Presidente Emiliano. Se c'è da sospendere la vendita, la procedura di vendita, per fare chiarezza nel rapporto con la regione, prima si fa chiarezza, poi si può riaprire i termini e vediamo quanto effettivamente vale a questo punto la Casa Divina Providenza. Le sigle sindacali chiedono infatti che siano chiarite le condizioni in cui dovrà operare la nuova gestione e che Casa Divina Providenza sia venduta al giusto prezzo e non svenduta e che non si scopre all'ultimo minuto o a cose fatte quali saranno le nuove condizioni di lavoro dei circa 1.500 dipendenti. Siccome sono venuti qui a visionare le carte aziende nazionali e anche internazionali e quando hanno visto le carte si sono tirati indietro. Quindi hanno verificato che il contesto non era favorevole dal punto di vista del passaggio perché comunque c'era l'incertezza della prospettiva. Non sapevano appunto se Regione o meno assicurasse quel riequilibrio economico che necessita per la prospettiva. In questo caso chi ha partecipato spera forse di avere questa condizione ma è già parti con un handicap di base che è quello del dire che parti già con un debito sulle spalle su cui il rischio più facile è che si scarichi sui lavoratori e sull'azienda perché poi il problema qual è? Se devi far riequilibrare i conti non è che ti puoi portare il debito all'infinita. Qualcuno dovrà pur pagare questo costo.